Allora con Mr. Monaco un prato battagliero mercoledì contro la terza della classe Larezzi in un derby che è stato bello, però purtroppo non sono arrivati questi punti, però si è visto veramente un prato che ha dato l'anima e che ha giocato anche una bella partita. Sì, sono d'accordo, la prestazione è stata centrata, purtroppo abbiamo pagato a parte l'Eurogoal di Moscardelli e poi l'ingenuità sul secondo gol. Abbiamo fatto una buona partita, però non abbiamo portato niente a casa e questo ci dispiace molto perché in linea di massima quando si fanno certe prestazioni i risultati arrivano. Però devo dire anche che abbiamo incontrato nelle ultime tre partite le migliori tre del girone. Da domani dobbiamo cercare di centrare le prestazioni sempre e soprattutto portare qualche punto a casa. Esatto, adesso ci sono quattro partite diciamo abbordabili, ma sappiamo che il campionato di Lega Pro ormai è di alto livello sia dal lato tecnico che come giocatori. Adesso il Prato gioca Gorgonzola contro Gianna Arminio, un match non facile anche perché ci saranno due assenze fondamentali come Romano e anche lo stesso Martinelli che non può venire alla trasferta. Sì, sono due ragazzi che hanno subito degli infortuni e Romano è da tanto che manca. Questa è la terza settimana, mentre Martinelli ha preso una botta mercoledì per cui non è disponibile. Ma al di là di quelli che abbiamo, che non ci sono, è importante andare a incontrare questa squadra che è una buona squadra, che in casa gioca bene, con la stessa concentrazione e determinazione che abbiamo affrontato mercoledì sera l'Arezzo. Io sono convinto che se si fanno certe prestazioni i risultati devono arrivare per forza. Ecco la conferma dei due centrocampisti che Kine e Carcuro dovrebbe essere scontata e poi vedrà nella fase offensiva. Sì, non abbiamo purtroppo tante scelte perché anche Cavagna non è nelle migliori condizioni però quelli che sono scesi in campo mercoledì mi danno determinate garanzie e poi se in partita in corso si può sempre fare qualche cambio.